Giovedì 29 dicembre al Cinema Masetti di Fano si proietterà l'anteprima cinematografica della regista pergolese Elena Torelli dal titolo Noi Donne dell'Est, noi cittadine del mondo. L'appuntamento, organizzato da Impronte Femminili, assessorato pari opportunità del comune di Fano, mette in risalto il racconto di tante donne provenienti da paesi diversi come Moldavia, Ucraina, Romania, Albania, arrivate nel nostro territorio e quindi nell'ambito territoriale 6 attraverso interviste in un docufilm della durata di 35 minuti. È un viaggio all'interno delle storie delle donne del nostro territorio, è un viaggio che probabilmente non è mai stato fatto perché non è mai stata data voce a queste donne che vivono con noi, vivono in mezzo a noi, fanno parte delle nostre famiglie e ricoprono determinati lavori, determinati lavori anche al di là forse di quelle che erano le loro aspettative, i loro sogni. Quindi in un qualche modo attraverso questo percorso, questo viaggio, fatto di incontri, i momenti di condivisione con loro, chiacchierate, vengono fuori quelle che sono le loro esperienze, le loro storie, anche i loro racconti più intimi nella volontà di rappresentare attraverso ogni singolo racconto, nell'unicità di ogni singolo racconto, quello che è un racconto più universale che riguarda tutte queste donne di differenti provenienze geografiche che hanno deciso, purtroppo sono state costrette a venire e vivono qui, hanno deciso di restare qui con noi e di far parte di questo territorio e raccontarsi in un qualche modo. Quindi conoscerle per riconoscersi perché veramente le loro storie ci riguardano tutti, riguardano tutti noi. Giovedì al Masetti si inserisce dentro una serie di appuntamenti della ricerca di impronte femminili di quest'anno, una quinta edizione, che ha concentrato la sua attenzione sul tema del multiculturalismo. Abbiamo già fatto un'anteprima quest'estate a Pergola, nel teatro di Pergola, di questo docufilm che è stato poi perfezionato in autunno con ulteriori testimonianze raccogliendo altre importanti voci del nostro territorio, di donne del nostro territorio. E quindi giovedì qui al Masetti, vi ricordo alle 18.15, l'ingresso è gratuito ma è importante la prenotazione che potrete fare sia dal sito improntefemminili.it oppure dai social Facebook o Instagram di Impronte Femminili.